Super bonus e cessione dei crediti. Ecco gli oltre 300 emendamenti che sono stati presentati per cercare di salvare il salvabile. Come sapete è in discussione al Senato il decreto legge numero 11 del 2023, il famoso decreto cessioni. Sta quindi completando il suo percorso di discussione. Nell'ambito di questa discussione sono stati presentati oltre 300 emendamenti con i quali si cerca di risolvere tutta una serie di problemi. Alcuni ovviamente sono ben antecedenti, cioè risalgono ben prima che sia stato pubblicato il decreto cessioni. Altre sono state introdotte o comunque sono delle criticità che sono state rilevate con l'introduzione del decreto cessioni. Quindi sono stati presentati degli emendamenti con i quali si cerca di rivedere un po' i limiti temporali del super bonus, degli emendamenti in merito al discorso della responsabilità solidale e delle situazioni in cui si va in deroga all'impossibilità di utilizzare le opzioni alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito. Si tratta di emendamenti, alcuni dei quali a mio avviso sono meramente pretestuosi e che quindi non verranno mai accettati, altri invece li considero molto interessanti, per cui credo sia giusto, visto che poi è un discorso che riguarda tantissime persone, non solo coloro che hanno cercato di avere accesso al super bonus, ma anche coloro che hanno utilizzato i cosiddetti bonus minori, per cui ho deciso di farne un video ad hoc. Mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere e da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, cliccando sulla campanellina a rimare aggiornato sull'uscita dei prossimi video, se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale e nel link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Potrebbe essere utile abbonarti nel caso in cui ti stia affrontando la ristrutturazione del tuo immobile e vuoi accedere ancora a uno di tanti bonus che sono ancora presenti nel mondo dell'edilizia, oppure se stai affrontando una compravendita immobiliare vuoi valutare gli aspetti più importanti da prendere in considerazione quando si vende o si acquista un immobile. Detto questo ti chiedo di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di cosa si tratta. Allora il fulcro di tutto è il decreto cessioni. Questo decreto cessioni pubblicato il 16 febbraio del 2023, decreto legge numero 11, che cosa diceva sostanzialmente? Primo luogo stabilisce l'impossibilità di utilizzare le opzioni alternative di sconto in fatture e cessione del credito, questo relativamente a tutti i bonus presenti nel mondo dell'edilizia, a partire dal 16 febbraio 2023 in poi e con alcune deroghe, con alcune eccezioni per le quali ancora poteva essere utilizzato. E' poi stato stabilito l'impossibilità per gli enti locali di acquistare credi fiscali, questa è un'altra cosa molto importante, e sostanzialmente è stata stabilita, tranne i casi di dolo o colpa grave, è stata individuata una checklist precisa di documenti che devono essere visionati, che devono essere valutati, in base ai quali appunto chi ha questi documenti non può più essere coinvolto da sequesti preventivi e quindi eliminata la responsabilità solidale. Sono stati presentati, come ho detto, nell'ambito della discussione, dell'approvazione di questo decreto legge, sono stati presentati tantissimi emendamenti, alcuni, come ho detto, pretestuosi, non verranno mai accettati, altri invece molto interessanti. Li voglio riportare qui di seguito. Prima di tutto una serie di emendamenti che riguardano il discorso delle limitazioni temporali, cioè sostanzialmente sono richieste delle proroghe al termine ultimo con cui si può accedere al superbonus. E' stata richiesta ad esempio una proroga per le unifamiliari, attualmente per le unifamiliari il superbonus scade al 31 marzo 2023 con la condizione di aver svolto almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Ecco, si chiede di spostare questa data sostanzialmente dal 31 marzo, portarla al 30 giugno, quindi posticipare di sei mesi, e la data del sal 30% di spostarla dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022. Addirittura qualcuno propone di posticipare la fine del superbonus per le unifamiliari al 31 dicembre 2023. Poi vengono richieste anche delle proroghe per il termino del superbonus per i condomini. In pratica viene richiesta la possibilità di utilizzare ancora l'aliquota del superbonus al 110% fino al 30 giugno del 2024, anziché il 31 dicembre 2023 per coloro che hanno presentato CILAS entro il 25 novembre del 2022. Viene richiesta una proroga anche per gli edifici che rientrano nell'ambito degli istituti popolari, con l'eliminazione del vincolo del 60%. Viene richiesto quindi lo spostamento della scadenza del superbonus al 31 dicembre del 2024. Questa è un'altra cosa molto importante. Questo per quanto riguarda il discorso delle scadenze, quindi viene chiesto di posticipare le scadenze ultime del superbonus. Poi sono stati presentati degli emendamenti, o meglio un emendamento per lo sblocco negli acquisti dei crediti per gli enti locali. In pratica è stato presentato un emendamento secondo il quale si darebbe la possibilità agli enti locali, alle pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti d'imposta derivanti proprio dai lavori concernenti quello che è stato stabilito praticamente dal decreto rilancio, ovviamente nei limiti delle capacità fiscali di quell'ente. In questo caso quindi si chiede di dare la possibilità agli enti locali, le pubbliche amministrazioni locali, laddove ne abbiano la possibilità di andare ad acquistare crediti fiscali. Poi per risolvere il problema legato al blocco dei crediti fiscali, il famoso tema della compensazione con gli F24. In pratica con un emendamento si richiede che gli istituti finanziari, le banche e posti italiane che con partecipata con lo Stato si è data la possibilità di compensare le somme relative agli F24 della propria clientela con crediti d'imposta originati a seguito di interventi eseguiti negli anni 2020 e 2021, quindi per spese sostenute in quegli anni e che ricadono nei bonus agevolati, nei bonus edilizi. Quindi questo è ovviamente un argomento che è molto molto discusso perché è quello che effettivamente potrebbe consentire uno sblocco dei crediti fiscali. Poi c'è l'emendamento secondo me quello più interessante, quello più importante, che effettivamente potrebbe se approvato portare al definitivo sblocco dei crediti fiscali e qual è? Un emendamento con cui si dice sostanzialmente che tutti coloro che vanno ad acquistare dei crediti fiscali una volta che hanno eseguito dei controlli specifici ben chiari, cioè è stata rilasciata una checklist di documenti che devono essere controllati, se questi documenti vengono controllati e una persona acquista dei crediti fiscali poi se un domani vengono trovate delle illegittimità sui crediti originari, originari da cui sono scaturiti i bonus a quel punto non può essere attuato il sequestro preventivo di quei crediti e quindi sostanzialmente viene salvato viene eliminato il concetto di responsabilità solidale in questi casi. E' una cosa secondo me assolutamente di buonsenso perché se io in buona fede controllo tutta una serie di documenti che mi viene detto essere necessario controllare, in buona fede acquisto dei crediti fiscali, se un domani viene riscontrato dall'Agenzia delle Entrate che sono state commesse di irregolarità da parte del beneficiario originario è chiaro che in quel caso l'Agenzia delle Entrate deve andare a riprendersi e eventualmente deve andare a rivalersi sul beneficiario originario che ha commesso l'illegittimità, non su di me che ho acquistato dei crediti fiscali in assoluta buona fede. Questo credo che sia un emendamento molto importante perché veramente potrebbe consentire di sbloccare i crediti fiscali e far tornare degli investitori a decidere di investire nei crediti fiscali relativi ai vari bonus presenti nel mondo di dirittizia. Poi c'è un emendamento in cui viene chiesto di fissare dagli istituti finanziari dei tempi di istruttoria ben precisi, cioè le banche devono dire che per lavorare, per istruire le pratiche di cessione del credito deve volerci tot tempo, 30 giorni, viene stabilito che in 30 giorni deve essere istruita completamente la pratica relativa a una cessione del credito, quindi deve comunicare quelli che sono i documenti necessari dopo che una volta che vengono forniti da parte del beneficiario entro 30 giorni deve essere istruita la pratica. Questo credo che sia veramente una misura assolutamente di buonsenso, chiaramente. Altro emendamento molto importante, si chiede di ampliare un pochino quelli che sono i casi in cui nonostante venga pubblicato sostanzialmente, nonostante sia applicato il decreto cessioni, i casi in cui ancora sarebbe possibile utilizzare sconti in fattura e cessione del credito. In particolare si richiede che possa essere utilizzato sconti in fattura e cessione del credito per interventi che rientrano nel bonus barriere architettoniche, per tutti quegli interventi in cui non è richiesta la presentazione di un titolo abilitativo e per i quali sia già stato sottoscritto un contratto con l'azienda che deve eseguire quel determinato tipo di intervento, per gli interventi che rientrano in ambito sisma bonus acquisti, per i quali sia stato ritirato il titolo abilitativo e siano stati già avviati i lavori o che comunque sia stato stipulato un preliminare di acquisto di erogeno nel caso di sisma bonus acquisti entro il 31 dicembre 2023. In ogni caso si chiede di posticipare la data ultima a partire dalla quale non è più possibile utilizzare la cessione del credito e sconti in fattura dal 16 febbraio che è l'attuale data al 30 aprile 2023, quindi sostanzialmente due mesi e mezzo in più di tempo. Credo che questi sono un po' un estratto di quelli che sono gli emendamenti forse più interessanti, come ho detto ne sono stati presentati tantissimi, si parla di circa 300 emendamenti, molti dei quali non verranno probabilmente neanche presi in considerazione perché sono veramente predestruti, però alcuni, tipo questi secondo me che ho riportato qui, sono credo degli emendamenti e delle richieste di assoluto buonsenso e vedremo come il governo si comporterà nei confronti di queste richieste. Ovviamente vi terrò aggiornati su quello che succederà nelle prossime settimane per cui vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube cliccando sulla campanellina e rimanete aggiornati sull'uscita dei prossimi video e se volete potete anche decidere di abbonarvi al canale. Ciao!